La sessione conclusiva di questa inedita tre giorni del clero ha visto sacerdoti e diaconi riuniti con il cardinale arcivescovo nell'ampia sala del cinema Fossolo che permetteva il prudente distanziamento fisico per una mattinata intensa di riflessione sulla realtà digitale. Realtà digitale come ambiente culturale nel quale avvengono non solo molti degli attuali processi di comunicazione ma anche come luogo di elaborazione di un modello di società rispetto al quale la Chiesa, una Chiesa esperta in umanità, non può restare indifferente. Ne ha parlato Don Luca Peyron, sacerdote parroco attivo a Torino nell'ambito della pastorale universitaria, promotore di un apostolato digitale che ha contribuito in modo determinante a portare nella città della Mole il nuovo centro nazionale per l'intelligenza digitale. L'ampio contributo di Don Peyron sarà pubblicato prossimamente nel nostro canale YouTube. Tre giorni inedita non solo nella modalità che ha ampiamente sfruttato i nuovi media, dai nostri riscontri le comunicazioni pastorali riservate a preti e diaconi hanno avuto un ampio riscontro nei destinatari. Tre giorni inedita anche per essere stata preceduta dall'assemblea diocesana online che ha collocato il servizio del presbiterio diocesano e del diaconato dentro al cammino a cui è chiamata l'intera comunità diocesana. Una tre giorni indubbiamente particolare. La pandemia ci aiuta anche per certi versi a cambiare, ci costringe, ma ci aiuta anche a sperimentare modi nuovi, di cui alcuni credo che continueranno anche dopo, speriamo quanto prima, finisca la pandemia. Abbiamo avuto un sabato, l'inizio con l'assemblea diocesana importante perché coinvolgeva tutti e l'inizio dell'anno pastorale quindi con tutte quante le nostre comunità, con i presidenti di zona, i vicari, con tutti. E poi ho in questi tre giorni intensi di riflessione e di preghiera, di ascolto, di ascolto profondo e anche di ascolto di noi stessi, con il vedersi nei vicariati ma anche insieme, il più possibile in presenza, perché è importante quanto riprendere la presenza, ma anche con la comunicazione digitale che ha permesso di restare uniti anche quando purtroppo la pandemia ci divideva. Che cosa, come ci sentiamo? È davvero come il tema di quest'anno, il seminatore che esce a seminare, con la convinzione, la speranza, la fatica anche certamente, di guardare un terreno dove ancora non c'è niente, ma sapendo che quel seme darà del frutto. Lo capiremo soltanto gettandolo e poi vedremo che tanto andrà perso ma qualcosa raggiungerà, con misure diverse, quindi non c'è una perfezione, con misure diverse e tutte importanti. E questo seme che vogliamo raggiungere in particolare il cuore di tanti adulti che tante domande portano nel cuore, per provare assieme a trovare le risposte, per aiutare tutti, noi e le persone che incontriamo, a innamorarci di nuovo di Gesù, che è la risposta, la via, la verità e la vita anche in questo tempo di pandemia. Questa modalità inconsueta che si è rivelata davvero interessante, sia per la ricchezza dei contenuti, ma anche per i modi con cui si è svolta, e prima della tregione del clero, l'assemblea diocesana. Questa modalità, in presenza ma anche da remoto, si è rivelata così efficace, da pensare che anche una volta che saranno finite queste norme restrittive, si possa utilizzare ancora, perché dà la possibilità davvero di raggiungere una più ampia parte della Chiesa, del popolo di Dio, per un dialogo reale. E penso che davvero in questo modo ci inseriamo, in questo tempo, non solo dal punto di vista cronologico, ma come ha detto ripetutamente il nostro Cilio Vescovo, cogliendolo come il Kairos, come tempo opportuno per una nuova fase dell'evangelizzazione.